Ciao a tutti, mini video per dirvi una novità importante, un nuovo arrivo, eccolo qui, lui è un microscopico gattino che è arrivato qualche giorno fa, non ha ancora un nome, è un maschietto ed è piccolo piccolo, tra qualche giorno lo portiamo al veterinario, così siamo anche sicuri del sesso e vediamo se è tutto a posto, se è sano e tutto, e niente, prossimamente vi farò sapere il nome che ho scelto, se volete potete scrivere qua sotto qualche consiglio anche se io ho gusti molto strani, e niente, vi lascerò a qualche suo video, un bacio alla prossima, ciao! Ciao a tutti! 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 !